Questa è Pina. Pina è una segugia italiana di otto anni circa. È con noi da otto mesi, da quando purtroppo la sua mamma è venuta a mancare. Le voleva veramente bene, la trattava come una figlia, ma non è stato lo stesso per i figli che invece l'hanno poi messa in disparte da sola fuori e lei essendo abituata a coccole e compagnia di questa cosa ne ha sofferto tanto. Quindi piangeva, il vicinato si è lamentato e quindi siamo andate a prenderla, l'abbiamo portata da noi e è veramente posso dire che è una cagnolina meravigliosa, è dolcissima, è una compagnia indescrivibile, soffre un po' l'ansia della separazione e quindi cerchiamo per lei una famiglia che ci sia presente, che voglia darle tutto l'amore che merita e che se voglia vedere un sacco di film lei sarà un'ottima compagnia, un'ottima compagna e anche un'ottima coperta per l'inverno. Purtroppo questa storia l'abbiamo vista tante volte, le persone se ne vanno, lasciano questa terra e i cagnolini o i gattini che hanno amato con tutto il loro cuore rimangono da soli, rimangono in lutto. E allora uno pensa, vabbè ma tanto io ho un figlio, ho due figli, ho una famiglia, ci penseranno loro quando io non ci sarò più e invece non è così, perché i figli di questa signora ben se ne sono guardati da tenere la piccola Pina in casa, l'hanno abbandonata in giardino e immaginatevi il suo cuoricino, la sua disperazione, non ha più visto la sua mamma umana e si è trovata in un giardino, abbandonata, non più nella sua casa. Ebbene, povera Pina, era ovvio che avrebbe pianto, pianto tanto e quindi poi i vicini si sono lamentati, tutto un susseguirsi di sfortune e questi figli ingrati. Invece di portare in casa la cagnolina che la loro mamma ha amato tanto, l'hanno mandata in canile. Adottate Pina, vedrete che vi starà al fianco e vi riliempirà il cuore di amore. Vivere con lei sarà stupendo, quindi chiamate al numero 339 64 15 465.